Comincerà il 15 febbraio il primo dei quattro corsi in simulazione rivolti ai medici dei pronto soccorso ospedaliari e del 118 organizzati dal CEMENIS, il centro mediterraneo di simulazione e medicina che si trova all'interno del CEF PAS dal 2016. Si tratta di corsi accreditati a CM per medici chirurghi. Il primo si svolgerà in due giornate, il 15 e 16 febbraio. Si tratta del pre-hospital trauma care advanced, otto ore al giorno, che daranno l'opportunità ai partecipanti di ottenere maggiori competenze nella gestione dei soggetti con un trauma, così da raggiungere ottimizzando i tempi, l'ospedale è più adatto al paziente, assicurando le migliori condizioni possibili. Il secondo corso in ordine di tempo sarà il Basic Life Support, che si svolgerà in una sola giornata il 28 febbraio. Mentre per quello precedente era possibile ottenere la certificazione di esecutore IRC, avendo superato le valutazioni previste, in questo caso e anche per gli altri due corsi la certificazione sarà quella di esecutore American Heart Association. Il BLS forma gli operatori nel supportare le funzioni vitali di base di una vittima adulto-pediatrica, priva di coscienza, respiro e circolo, si legge, eventualmente facendo anche uso di defibrillatori semi-automatici esterni. Le prime due giornate di marzo, e cioè l'1 e 2 marzo, saranno dedicate invece all'Advanced Cardiac Life Support, che mira a conferire competenze nel riconoscimento e intervento nei casi di arresto cardiopolmonare, nelle condizioni dell'immediato post-arresto cardiaco, aritmi acuta, stroke e sindromi coronariche acute. Attenzione anche alle dinamiche interattive del lavoro di squadra durante la gestione avanzata del paziente critico. Infine, il 9 e 10 marzo, nelle 16 ore complessive, si terrà il corso Pediatric Advanced Life Support, che riguarda invece la gestione dei pazienti pediatrici. Le iscrizioni dunque sono aperte e gratuite per il personale dipendente a tempo indeterminato delle aziende pubbliche del Servizio Sanitario Regionale, che opera nei pronto soccorso, e per il personale medico convenzionato su S118. In quest'ultimo caso, appositamente segnalati dalle aziende di appartenenza, invece, i professionisti a tempo determinato.